Ragazzi, sembra che in questi ultimi giorni, quando devo registrare un gioco per mobile, ogni volta lo devo registrare almeno 30 volte, perché non vinco mai. Ok, forse avete già capito che io non accetto la sconfitta, però è più forte di me. Ok, forse avete già capito che io non ho 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 capito. Sto parlando in una lingua incredibile. Ma si può... veramente... E poi, comunque aveva capito dove andare. Scusate ragazzi che sto mangiando un bel po'. Ma comunque, dai! Let's go! Hello? No! Perché mi date tutti giochi con la gravità? Con qualche fisica strana, per dire. Grazie. Grazie. devi andare più lungo ok yes deve essere più lungo yes si um vai oh yes 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 vai si um cacchio proprio io posso essere proprio proprio l'ulto 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 vai sedere grande come una pesca una pesca grande una fortuna incredibile wow allora andiamo a vedere ah la mia prima vittoria ma ovviamente proviamo a sfidarmi a questo gioco speraci ok ok proprio al centimetro l'ho schivato è complicato però non trovo non è molto complicata questa mappa mer 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 non riesco nemmeno a vincerò sto gioco ma ma che gioco so vincere allora che il block dash è tipo l'unico che a cui io so ho delle schi fatemi imparare tutti i fottuti trick di sto gioco di merda ragazzi prometto che adesso la pubblico su youtube perché per favore faccio un video al giorno lo so che posso anche schippare i giorni però però soddisfa le richieste cioè e che è mio dio vai let's go bordi i bordi i bordi i bordi i bordi i bordi i bordi ok qualcuno può fare un remix di i bordi i bordi i bordi i bordi i bordi ok cioè della musica da Skrillex nel frattempo io che dico i bordi i bordi i bordi i bordi nuovo coro per la salernitana i bordi i bordi i bordi i bordi i bordi ok andiamo a vedere 16 rimanente lesgo humble stumble c'è c'è un modo di poterlo fare effettivamente ok ci sono i campolini che non sono niente proprio proprio là dovevo andare dai ah va bene sta parte come come chiacchio come come fa proprio l'ultima parte proprio ragazzi la scorsa registrazione c'era c'era tutta parte dell'io proprio 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 erano tipo millisecondi prima che che ci fosse il tosto e l'ho letteralmente preso quel 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 momento e l'ho proprio sfruttato alla grande proprio incredibile yes il gioco quello della lava che sicuramente l'ultima volta che ci ho giocato ho fatto schifo al ca no 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 ma perché mi devo fare un cazzo di minigioco finale che poi io sbaglio almeno una skin nuova dai almeno una skin buona yes il il blu racer il problema è che non è che una sia la miglior skin il blu racer dai facciamo la prima partita con questo blu racer e let's go dai è il momento di spruccare le nostre bare skill cacchio il martelletto cacchio il martelletto cacchio cacchio il martelletto cacchio cacchio il martelletto ok bene inizia molto molto bene ok bien allora vediamo Rocket Rumble che ho fatto in una mia precedente registrazione e ho letteralmente caricato la mia intera squadra ok guardiamoci sempre che dobbiamo essere difensivi in questi giochi di squadra attacchiamo un po' no 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 vattene ah ok ragazzi la bellissima uva il problema è che sto registrando e quindi letteralmente l'uva drip prendi questo oddio yes 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 3 a 7 li sta letteralmente demolendo guai questo è il verona contro il contro il contro l'inter cazzo cazzo se solamente non fosse stato rimasto il tasto ragazzi l'uva drip ci aiuterà a vincere ma come appena ho preso l'uva sono salito adesso abbiamo rimpareggiato il posto adesso adesso rimpareggiarlo non mi farei testi ma ma cazzo rolla no ma come ma come ok ok lo abbiamo rimpiato come come il cacchio abbiamo fatto a perdere il cacchio babbo ragazzi questo questo è stato sicuramente uno dei più intrattenenti tra quelli che ho fatto babbo ci vediamo il paolo